... ahahah tui chiamati non c'è quello qui è tutto non c'è non c'è, non c'è procurazione di più un primo C'è un po' di più. Ok. che non ci ha detto io c'è Gesù c'è Gesù c'è Gesù sono in grado c'è Gesù che si hanno detto c'è Gesù non 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 c'è Gesù Prima l'October. Prima! Prima! Sì, come se stia? Qui è? Ah, non ci spiare. Sì. No, no, no. Open cheese. Mi ha fatto un po' di me. Non è un po' di me. Sì. Non è un po' di me. Non è un po' di me. Poi un po' di me. Hai ragazzi. Hai ragazzi. Sei un po' di me è bello per le con il biancino. Ma... Ma... Hai un po' di me. Hai un po' di me. Ho un po' di me. no